battaglia del quattro click si chiama manuela gioca con la mamma angela tosca ecco che manuela si va a trovare brava angela tosca tenta ancora la sua idea un gioco particolare per natale ragazzi guarda! ha vincito angela tosca! ma come cavolo fai? mi ha fatto perdere mia figlia non si fa dai anna